Musica Taxi! Taxi! Sono qui! Oh mamma, perché non dobbiamo andare a piedi? Oh, devo sempre pensare alla famiglia Fogg, l'ultima cosa che ne ho fatto con i Jelly Beans E' stato davvero osceno Oh, sono pazzi, sono pazzi Tessa, ma che c'è? Oh, è questo taxi, non viene? Taxi! Oh, perché non si ferma? Accidenti! Oh, devo pensare alla famiglia Fogel Eh, due cose che hanno fatto l'ultima volta Abbiamo dovuto mangiare quelle cose schifose Ah, Tessa, ma insomma, lo so, sono gli Schnösel, ma... Oh, tu sei mia figlia e... Io di sicuro ti aiuterò a fare una vendetta Eh, vuole tu davvero una torta così? Eh, abbiamo torte... Eh, le fragole, donuts, tutto, ma una torta così... Mmm... Non ce l'ha mai ordinata nessuno Ah, sì, davvero, vogliamo una torta così Non ce lo chieda mille volte, ok? Paghiamo quanto vuole Oh, questo servizio è davvero... Pessimo Sì, ok, ok, farò una torta così per lei, aspetti Oh, ma che famiglia strana Una cosa del genere non ho mai vissuto una torta così? Mmm... Ah, ha funzionato, ora... Gliela diamo alla famiglia Fogel, vedrai Oh, non si vede che cosa c'è dentro? Oh, sono proprio curiosa di vedere che faccia faranno Spero che aprano la porta Ciao, Tessa, ciao... Ma cosa ci fate qui? Abbiamo portato una torta Oh, ma che carina Mmm... Non avevamo proprio aspettato questa cosa Martin e Julian non ci sono E sono qui con le due ragazze Oh, accidenti Julian, lui Mi sarei vendicata con lui Vabbè, pazienza Vado a prendere gli altri Anna, Emma Oh, Tessa Devi imparare molto di più da me, ok? Non devi lasciare passare niente Tessa Devi essere così come sempre Ma sono come al solito Ma di solito Non avremmo portato di sicuro una torta Non lo facciamo di solito Anna, ci sono ospiti? Oh no, gli schnose Non è possibile Pensavo che per una volta Le avessimo mandati via con questa storia degli jelly beans Mmm... Cosa sta dicendo? Vieni un attimo Mamma, devo fare i compiti Io... Io sto guardando... Oh, e ma... Anna, li puoi fare dopo Puoi fare una piccola pausa E mangiare un pezzo di torta, ok? Mmm... Un pezzo di torta Sì, ma... Famiglia schnose... No Oh... Chissà come sarà questa torta Meno no, lei che non è per me Ma per la famiglia Foga Bleh Oh, Tessa Te l'ho detto prima Devi imparare molto di più Anche noi dobbiamo mangiare un pezzettino Altrimenti se ne accorgono Oh, mamma Davvero? Non devo mangiarla, vero? No Ah, ah, ora... No, direzione sbagliata Eh, ma tesoro C'è la torta C'è la tazia E... Tessa Oh, sì, torta Oh, ma... No Gli schnose, no Oh, ma dai Per favore, ok? Ti do anche del cioccolata Ok, ma solo se mi trascini giù Ti porto in brazzo Vieni Però diventi sempre più pesante Tra un po' non ce la farò più Prego Siediti Puoi poi andare in cucina E Anna? Dove sei? Anna, vieni Ah, Claudio Ho già preso i piatti Va bene? Oh, ma certo Che gentile da parte tua Quindi non devo più occuparmi di niente Posso godermi la torta Goderti della torta Se sapessero cosa mangeranno Ehi, ciao zia Ciao Tessa Ah, siamo davvero contenti Di mangiare con voi la torta Sedetevi Buon appetito Sarà una buona vendetta Ah, questa torta Sembra buona E dovrebbe essere davvero Così schifoso Bah Mmm, torta alle fragole Chissà che buona Oh, forse è stata una buona idea Di scendere Oh, ma che cosa gentile Da parte vostra Magari avete avuto Solo una fase strana Ma ora va tutto bene Ma allora Buon appetito Ah, ma cos'è È piccantissimo Ah, brucia Brucia Brucia, brucia, brucia Bruciano anche gli occhi Ah, ah Non ce la faccio più Ah, ah Tessa Abbiamo fatto un ottimo lavoro Oh, si Può dire forte Marta Ma che torta L'avete fatto voi? C'è stato che ci sia andato Qualcosa storto No, non è andato storto Ciao famiglia Fogel Questa era la nostra vendetta Perché i nostri bambini L'ultima volta Hanno dovuto mangiare Quei cosi E questa volta È un ponte Alla famiglia Snusel 1-0 per noi Oh, no Non è possibile Ah, è piccante Ah, possiamo bere il lato Ah, brucia Ah, pensavo fosse cambiata Ma invece Ovviamente no Alla famiglia Alla famiglia